La legge 71 del 17, disposizione e tutela dei minori nella prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo, prende vita dalla tragica vicenda di Carolina Picchio. Io sono stata la sua insegnante alle scuole medie, era la sua insegnante di musica e dopo pochi mesi dalla sua licenza media e quindi la prodo alle scuole superiori avviene questa tragedia. Io naturalmente anche come persona vicina alla famiglia mi interrogo sul fenomeno, prendendone anche una visione di carattere più generale, essendo io in quel momento ne ho eletta in Parlamento. Allora la richiesta in Commissione dei diritti umani di essere nominata referente per fare un'indagine conoscitiva e conoscere meglio perché e come i ragazzi si stessero facendo del male, così tanto male sulla rete, diventò in quel momento un'esigenza per me ma anche per dare una risposta ai tanti ragazzi e ragazze che avevano conosciuto Carolina. Ecco perché tutta questa legge che ha avuto anche un percorso piuttosto complicato è stata sempre ispirata anche alla sua vicenda ed è stata quindi a lei dedicata. È stato il primo caso di cyberbullismo a livello nazionale e il processo che ha visto i protagonisti responsabili della vicenda di Carolina tutti condannati è stato il primo processo per il cyberbullismo in Italia anche se alcune sentenze avevano già fatto in parte giurisprudenza su questo settore, sia sul bullismo che sul cyberbullismo. Ma quando in Senato abbiamo incominciato a lavorare su questo tema lo abbiamo fatto andando anche a interloquire con chi si stava occupando di questi problemi, in primis il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ma anche le associazioni come Save the Children, Telefono Azzurro, i garanti della privacy e i garanti dell'infanzia e dell'adolescenza, la Polizia Postale, le forze dell'ordine in generale ma in particolare la Polizia Postale delle Telecomunicazioni che da molto tempo stava lavorando su questi temi per quanto riguarda la criminologia informatica in senso generale. Tutti si è convenuto fin dall'inizio che necessitasse un piano di prevenzione che cercasse di mettere dei margini a quello che stava diventando un fenomeno dilagante. Oggi dopo 4 anni possiamo dire che la legge c'è ma nel frattempo davvero quella percezione di moltiplicazione del problema è sicuramente stata poi concretizzata. Ora però ci si rende più conto, la gente in generale, la società ha iniziato a affrontare il problema del rapporto tra i ragazzi e la rete, anche tra gli uomini e le donne adulte e la rete cercando di essere un po' più critici e un po' meno sottomessi alla tecnologia, che peraltro è qualcosa che gli uomini inventano e sul quale si dovrebbe sempre tenere alto il livello di controllo etico e lecito di quello che si fa. Ecco perché spesso utilizzando la rete nelle relazioni anche tra giovanissimi si incorre in reati veri e propri e il cyberbullismo contempla alcuni di questi reati. Quindi la legge per prima cosa che è una legge di prevenzione quindi di contrasto al fenomeno e non di carattere sanzionatorio, non è una legge contro la rete ma è una legge per rendere e emancipare i ragazzi e le ragazze nell'utilizzo delle tecnologie. Allora vediamo che nella definizione viene a contemplare diversi fatti specie anche di reato. Che cos'è il cyberbullismo? È una forma di aggressione, di molestia, di stalking, sono atti persecutori, sono pubblicazioni illecite di dati personali, sono furti di identità che vengono operati da parte di un bullo, quindi di un responsabile che spesso non è solo e quindi ha intorno a sé il branco nei confronti di una vittima che viene isolata o da sola o in piccoli gruppi. Il primo momento è quello proprio dell'isolamento, cioè un compagno, un amico viene comunque preso di mira, deriso, svinalleggiato o comunque messo in condizioni di emarginazione, se non addirittura viene fatto oggetto di azioni di violenza e di molestie. Da qui anche minacce, estorsioni, cose molto facili nel mondo del sexting, nel mondo della possibilità di poter mettere in rete qualcosa che si è carpito o magari con l'inganno oppure una foto intima che si è scattata anche col consenso della ragazzina o del ragazzino, oppure insomma delle veri e propri video che sono stati girati in un vero e proprio contesto cinematografico se possiamo dire, cioè si crea la scena per poter vessare il ragazzo o la ragazza e poi mettere in rete per poterlo definitivamente violentare nella sua web reputation, quindi a questo punto umiliazione che viene ad essere virale, dilagante nel tempo e nello spazio per sempre. Sappiamo quanto male può fare questo fenomeno e quanto i ragazzi che sono vittime di questo fenomeno pensino anche al suicidio. Ecco, in questa definizione c'è un po' tutto il corpus di queste condotte, c'è anche subito nell'articolo 1 della legge, c'è la filosofia che viene espressa, cioè è una legge che vuole essere preventiva e vuole mettere anche i ragazzi e le ragazze al centro di un processo che invece è un processo di emancipazione nei confronti della tecnologia e quindi di maggior controllo di una cittadinanza digitale critica e competente. Questo è il percorso che state facendo voi ragazzi anche facendo proprio i peer educator e quindi vi sto dicendo probabilmente delle cose che voi avete già sposato nella vostra mente, avete già elaborato e quindi oggi la legge vi dà anche la possibilità nell'approcciare, è protagonista di condotte o chi vive come vittima queste condotte con la consapevolezza che oggi ci sono delle misure specifiche che vogliono in qualche modo andare incontro alle specifiche situazioni. Nel caso della vittima con la segnalazione, la possibilità già a 14 anni di poter segnalare al titolare del trattamento la presenza di un contenuto che è ritenuto lesivo della propria dignità, quindi un contenuto che può essere bloccato, rimosso, occultato solo dal titolare del trattamento. Cosa vuol dire? Che i provider dovranno mettere a disposizione dei dispositivi che vengono azionati in modo semplice, quindi non si deve andare a fare la denuncia dai carabinieri, ma in modo semplice proprio online da parte di chi si sente appunto leso e quindi ci sono 24 ore perché vengano presi in carico queste segnalazioni e altre 24 ore perché venga occultato il contenuto. In caso di inerzia o di non accoglimento dell'istanza, lo stesso giovane può inoltrare alla garante della privacy la richiesta di blocco del contenuto. Per invece i responsabili che spesso sono responsabili inconsapevoli, se in caso non sia già stata proposta querela o denuncia, è prevista la procedura di ammonimento. Cosa vuol dire? Che a fronte di una segnalazione fatta al questore, il giovane o la giovane che si sono resi responsabili di atti riferibili al cyberbullismo, possono essere richiamati e ammoniti. Questo è un argomento importante perché da una parte è vero che a questo punto se il minore si assume le sue responsabilità, percorre delle attività anche rieducative, dimostra di aver capito di aver sbagliato, entro il diciottesimo anno l'ammonimento cessa e quindi la fedina penale è pulita. Nel caso però ci fosse una reiterazione, allora è chiaro che c'è l'aggravante, quindi a quel punto sì il processo penale. In prima istanza però evitare il processo penale a un ragazzo o una ragazza adolescente vuol dire davvero evitare grandi sofferenze e oltretutto un procrastinare nei tempi e anche quel momento di responsabilizzazione che è quello fondamentale proprio nella procedura dell'ammonimento. È già capitato, il questore di Imperia ha già agito, ha già utilizzato la legge, il ragazzo si è dichiarato inconsapevole di aver di fatto messo in atto delle condotte molto vicine a delle fattispecie di reato molto precise come quella della minaccia e di aver pensato di pubblicare delle foto che aveva scattato intime con la sua ex fidanzata, cosa che l'avrebbe messo in serie difficoltà perché quelle foto una volta che sono pubblicate sono individuate come fattispecie di reato specifica che è quella della pedopornografia ed è un reato grave. Quindi quello che la legge fa è appunto prevenire, cercare di informare attraverso naturalmente la scuola, è un po' quello che state facendo voi. Però prima di arrivare a parlare proprio della scuola passiamo all'articolo 3, quello del piano integrato. Cosa vuol dire? Che il tema è talmente rilevante perché intreccia delle modalità di comportamento che sono frutto anche di attività discriminatorie, di illecito, di prevaricazione, di pregiudizi nei confronti delle diversità. Quindi sono cose che naturalmente meritano profonda attenzione in campo nell'ambito educativo e nell'ambito formativo. Ma ci sono tanti aspetti che poi riguardano la cura, come vengono curati i ragazzi, bulli o vittime che hanno dei percorsi anche di così grande sofferenza alle spalle. Perché guardate che non so tra la vittima e il bullo chi alla fine poi sia davvero più vittima. Quindi programmi che riguardano la cura, programmi che riguardano anche l'attenzione a tutte le attività di carattere educativo e formativo, programmi che riguardano anche i media in senso generale. Quindi c'è un tavolo interministeriale che è coordinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca che lavora con il Ministero della Salute, il Ministero del Welfare, il Ministero di Grazie e Giustizia, il Ministero dell'Interno perché ci sono le forze dell'ordine, ma anche il Ministero dello sviluppo economico che porta con sé le aziende digitali che devono stare a questo tavolo. Perché è vero che questa non è una legge contro il web, ma è una legge che vuole responsabilizzare le aziende digitali. Poi abbiamo anche le autorità, il garante privacy, il garante infanzia e adolescenza, l'Agicom, il comitato media e minori, perché è molto importante che i ragazzi siano esposti a dei contenuti magari anche di violenza in età molto precoce attraverso queste piattaforme e forse qualche filtro bisognerà che si impari a metterlo e anche da questo punto di vista il web può aiutare anche in campagne di sensibilizzazione che possono essere diffuse tra ragazzi per i ragazzi stessi per non cadere nella rete. Quindi un'azione a 360 gradi. Poi c'è piano più legato alla scuola, un referente per ogni scuola, l'incentivazione di attività come la vostra, di peer education, bandi che vengono fatti dalle uffici scolastici regionali per premiare i progetti migliori presentati in rete tra scuole e in rete con i territori. L'articolo 5 prevede poi che i dirigenti scolastici, nel caso vengono a conoscenza di attività legate al cyberbullismo da parte di qualche preciso responsabile, debbano convocare i genitori di questo minore e poi ci sono degli aspetti importanti legati che riguardano anche i ragazzi che sono impegnati negli organi preposti, negli organi democratici che ci sono nelle scuole perché i regolamenti di istituto dovranno contenere delle specifiche regole che riguardano l'uso della tecnologia, l'uso dei device e anche le sanzioni che vengono condivise e vengono combinate poi al momento in cui si verificano i fatti. Questi sono i contenuti che ho voluto sintetizzarvi, poi naturalmente si possono fare ulteriori approfondimenti. Volevo terminare dicendovi che questa legge non è stata una passeggiata, ha avuto diversi passaggi, Camera e Senato, sono stati piuttosto impattanti anche gli emendamenti soprattutto che sono stati fatti alla Camera, ci sono voluti anche tempi parecchio lunghi, la discussione è stata molto lunga. Perché? Perché il rapporto come vi dicevo all'inizio tra l'uomo e la rete è ancora un rapporto da studiare che va indagato e sapete che le fake news, l'odio in rete sono argomenti molto rilevanti, di grande discussione che investono tutti e investono soprattutto voi, le giovani generazioni. Quindi io mi auguro che ci sia la possibilità di tornare anche in argomento, approfondire specificamente e anche capire come questa legge sarà attuata. L'importante è non pensare che una legge possa risolvere tutto, una legge può fare molto, questa è la prima legge in Europa su questo tema, sicuramente si posiziona anche dal punto di vista della sua filosofia in Europa come una legge di grande innovazione perché mette nelle mani anche dei ragazzi che sono i protagonisti della loro vita digitale la possibilità di difendersi, di sviluppare resilienza e coscienza critica. Quindi io credo che la cultura che deriverà anche dall'attività di formazione adesso obbligatoria nelle scuole ci porterà a fare grossi passi avanti nel nostro rapporto nella rete come cittadini digitali attivi. Vi saluto e vi auguro buon lavoro.